Ciao ragazzi, ciao Mauro, è arrivato un pacco confidenziale, super top secret, pericoloso, danger, guardate nucleare, queste qui ci sono sempre nei film dove fanno vedere cose nucleari pericolose, ci sono anche qui, vediamo cosa c'è dentro ho molta paura, ci sono dei pezzi di polistirolo che si mutano al buio sembrano, forse sono verdi, ragazzi vi giuro questo non l'ho mai aperto lo stiamo aprendo in video che cosa ci sarà dentro? a parte tanti pezzettini di polistirolo carinissimi, però vediamo sembra solo pezzi di polistirolo si niente ragazzi invece c'era qualcosa una borsa confidenziale solo ed esclusivamente per me una borsa confidenziale vediamo una mucca stanno arrivando l'invasione delle mucche cosa sta arrivando? stanno arrivando, ma perché abbiamo questa lucina? stanno arrivando tre puntini che in cui è tuttavia ma magari c'è qualcosa di segreto? oh ragazzi non l'invasione delle mucche gli alieni non si vede così ma così si quante braccia? eh, quattro non sono umani invece è un UFO ragazzi e adesso che cosa facciamo? ecco che cosa facciamo ma sono arrivati? sì dice push schiaccia ragazzi per me è una cosa tutta nuova non l'ho mai vista schiaccia c'è push exogeni ma c'è un portale push io sto pushando push 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 me è una scatola che si apre si alza cosa c'è? Sono racchiusi in una busta Vediamo C'è una mappa E qui abbiamo tutti i nomi degli exogeni Che nome strano Proviamo a liberarne uno Per esempio lui mi sembra uno squid Cos'è? Capitan Parrot Capitan Papagallo Guarda qui Si illumina appena fa buio Wow Guardate Nel portale Non ti voglio provenire a ciò la terra Sì fuori Questo qui Ha un cervello gigante 1 2 Vediamo come si chiama Doc MC Files Cocaine La lucina verde Guardate Mi monetizzo Che cosa sono questi? Pozioni Le pozioni Se le beve tutti e due Glug 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 Questo qui È Robogino Sembra Robogino No 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 Octavius Octavius Cioè praticamente Se mi mettete la mano sopra Si illuminano Se mi mettete la lucina Ovviamente no Perché c'è luce Guardate Ragazzi Questo qui Sì che lui È cattivo Questo qui Sì che è cattivo Ragazzi ma questo Ha degli occhi Anche sul corpo Aspettate Ma c'è un codice Se mi vedrà Fa vedere quello che mangia Capito Mangia Lischie di pesci Ossa E mele Il torsolo delle mele Si chiama Maddi Contiamo gli occhi 1,2,3,4,5,6,7,8 Occhi 1,2,3,4,5,6,7,8 Occhi Qui rimane sempre la sua luce accesa Quindi sicuramente lui è cattivo Poi è rossa la luce Lui è ancora più cattivo Ancora di più Ancora di più Proviamo a spegnere le luci Ecco ragazzi Guardate come sono belli Tutti questi exogeni luminosi In tutto sono 12 Quindi ce ne sono anche degli altri Attendiamo Che arrivano gli altri Ragazzi Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Mettete un mi piace Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al mio canale Ciao ciao da Leonardo Tutti questi exogeni Che si lupiano E questo messaggio Super segreto Che stanno arrivando Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti